Dimmi Totò, sai perché stiamo facendo questa conversazione? Certo, perché sono pazzi. Ma no, guarda che non tutti quelli che vanno dello psichiatra sono pazzi. Ma non era psicologo lei? Ah già, faccio sempre confusione. Ma perché non parliamo della tua famiglia? Che ne pensi di tuo padre? In che senso? Intento dire cosa fai in genere e come si comporta con te. Ah, beh è un tipo molto tranquillo. Si figuri che ascolta solo musica classica. Ed è molto tollerante. Buongiorno, hai un minuto per parlare di Dio? No, ma tu hai 10 secondi per sparire dalla mia vista. Oh! 1, 2, 10! E facciamo un sacco di attività padre e figlio. Del tipo? Andiamo spesso a pesca. Forza accendi. Subito papà. Minchia, me l'ho fatto un'altra volta. Ma stavolta in galera non ci torno. Forza scappamo! Andate d'accordo? Ma certo. Quasi sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. Ok. Quasi sempre. Quasi sempre.